italianca günlük konuşmalar conversazioni quotidiane in italiano conversazioni quotidiane hoş geldiniz benvenuto 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 adın ne come si chiama come si chiama come si chiama tanıştığımıza memnun oldum piacere di conoscerti piacere di conoscerti piacere di conoscerti nasılsın come stai come stai come stai günaydın buongiorno 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 tünaydın buonasera 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 iyi geceler buona notte buonasera buonasera Sabah Di mattina Di mattina Di mattina Menüyü görebilir miyim lütfen? Il menù, per favore Il menù, per favore Il menù, per favore Ne tavsiye edersiniz? Che cosa ci consiglia? Che cosa ci consiglia? Che cosa ci consiglia? Iki çeşit lütfen Due gusti, per favore Due gusti, per favore Due gusti, per favore Banyo nerede? Dov'è il bagno? Dov'è il bagno? Dov'è il bagno? Dov'è il bagno? Kiralık araba Auto a noleggio Auto a noleggio Auto a noleggio Kartla ödeyebilir miyim? Posso pagare con la carta? Posso pagare con la carta? Ne zaman açılır? Quando si apri Quando si apri Quando si apri Quando si apri Dosdor Dritto 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 Ilere Avanti 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 Geri Dietro 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 Otobüs durağı nerede? Dov'è la fermata? Dov'è la fermata? Dov'è la fermata? Üzgünüm Mi dispiace, mi dispiace, mi dispiace, anlamıyorum, non capisco, non capisco, non capisco, ingilizce biliyor musunuz? Parla inglese, parla inglese, parla inglese? Affedersin, permesso, 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 tek yön, andata, 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 geri dönmek, ritorno, ritorno, Bu ne kadar? Quanto costa questo? Quanto costa questo? Quanto costa questo? Tamam alacağım Va bene, lo prendo Va bene, lo prendo Istemiyorum Non lo voglio Non lo voglio Non lo voglio Yardım Aiuto Aiuto Bi doktore ihtiyacım var? Ho bisogno di un dottore Ho bisogno di un dottore Polis çağırın Chiami la polizia Chiami la polizia Chiami la polizia Dikkat Attento Attento Düşünmek Pensare 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 Per favore Per favore Per favore Per favore Per favore Per favore Satın almak Comprare 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 Konuşmak Parlare 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 İyi günler Buona giornata Buona giornata Buona giornata Yavaşça konuş Parli lentamente Parli lentamente Parli lentamente Sorun değil Non c'è problema Non c'è problema Non c'è problema Pasaportlarınız lütfen I vostri passaporti Per favore I vostri passaporti Per favore Bu uçuş gecikmeli mi? Il volo è in ritardo Il volo è in ritardo Uçuş iptal mi? Il volo è cancellato Il volo è cancellato Il volo è cancellato Bu koltuk dolu mu? È occupato questo posto È occupato questo posto Hoşçakalın Arrivederci 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 Buona giornata Buena giornata Buona giornata Buona giornata